eccoci tornati su resident evil villaggio perchè voglio provare mercenari e mercenari si inizia a giocare allora villaggio se iniziano il livello da giocare c'è solo il villaggio e andiamo a vedere un po che che cosa questo mercenario ok siamo qui dal duca e vediamo ok ci mette un pochino a caricare mercenari regole per prima cosa acquistano le cose qualsiasi compaggimento armi di cui tu abbia bisogno una volta sul campo sconfessi tutti i nemici che prendono il minimo tempo impossibili in un buon ritmo il combo per 2.x quando avrai che sconfitta un certo numero di nemici nel centro il btu richiesto apparirà l'uscita ci si è completano più ore per comunare ancora più punti in ogni livello poi una corta gara di sfera le sferi troverai anche quelle di sferi blu con le tre abilità speciali ogni sfera dà la possibilità di scegliere tra le tre abilità scassuali scopri quello che puoi sorti intorno a prendere insomma ok allora qua va perchè ok allora lì la porta passiamo qua dentro il castello posso magari consigliarti qualcosa allora risorse è uno dei miei articoli più apprezzati ecco cosa stavi puntando ok grazie per il tuo supporto inizia andiamo per me c'è contato anche le munizioni che avevamo via la fine partita non potta non potta ok ahi vien pieta 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 è vero pieta è vero ok ok pieta 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 vien pieta 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 una modifica così elementare si può fare in un lampo grazie per il tuo supporto andiamo a fare la secondaria non è vero non è vero è stato infatti l'ora è visto è visto è visto Scegli un'abilità! Non mi ostinare che si vengono a prendere tutti! Ok! E' qua anche fatto! Sconfinge almeno 15 nemici! Un'indicazione a schermo? No eh! Dove devo andare? Dove devo andare qui sopra? Qua? Siete breve? Sì! Si va! Fatti c'è me di! Fatti di c'è me! Unsere le si! Unsere le si! Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.